Grazie a tutti. Come vedete per il primo speech sono indiversi a parlare, quindi gli diamo velocissimamente il microfono anche perché hanno delle cose da dirci. Loro comunque sono sei persone, sono sei autori, hanno scritto un libro che è quello che vedete a loro spalle, si chiama De Pistaggi. Noi li abbiamo portati qui non per farli parlare del libro, anche perché l'ordine dei giornalisti è tassativo su queste cose, non si possono presentare libri nei corsi di formazione, quindi non sarebbe assolutamente possibile. Li abbiamo portati qui perché uno non sono giornalisti ma sono autori che hanno frequentato con successo una scuola che c'è a Bologna che si chiama Bottega Finzioni, una scuola creata da Carlo Lucarelli che è un nome che tutti noi conosciamo, nella quale scuola insegna una giornalista che fa parte anche del nostro gruppo di lavoro di LSD, che si chiama Antonella Beccaria che è stata la loro insegnante. Antonella è una giornalista, una giornalista di cronaca molto brava, che ha scritto un sacco di libri, che si occupa soprattutto di cronaca nera e giudiziaria ed è, come dire, ha insegnato loro a fare delle ricerche e a consultare gli archivi in modo intelligente ed informato. E loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto esattamente questo pensando di dover realizzare come esercizio nella scuola dove sono stati un programma televisivo, quindi era una simulazione, un esercizio, come dire, che avrebbe portato alla conclusione del corso. In realtà poi quell'esercizio che hanno fatto è stato svolto talmente bene che Antonella a un certo punto gli ha detto ma perché non ci scrivete un libro? E da questo è nato il libro che è in vendita e che potete eventualmente comprare. Quello che di molto interessante c'è e che loro spero ci racconteranno stasera è proprio il metodo che hanno seguito per tirar fuori da notizie già edite. Quindi noi che siamo giornalisti capiamo al volo di che cosa sto parlando. Loro hanno semplicemente consultato gli archivi, archivi cartacei, archivi analogici e archivi digitali. Tutte cose che erano già a disposizione di chiunque, del pubblico, niente di segreto. Però attraverso la consultazione di questi archivi hanno messo insieme un'opera totalmente inedita e sono arrivati a delle conclusioni, e sono tutti qui liberi, che evidentemente hanno un valore giornalistico molto preciso. E questo ci racconteranno. A voi. Grazie. Buonasera a tutti. Ringraziamo Marco Renzi e Digit per averci invitato. Io comincerò dicendovi cose che probabilmente sapete già tutti, però ci tenavamo a dare una sorta di inquadramento storico, un brevissimo inquadramento storico, sul lavoro che abbiamo fatto. Noi abbiamo lavorato su una mole di documenti giudiziari che possiamo definire tranquillamente monumentale. Sono tantissimi. E sono gli atti del processo Brescia-Terre, processo che ha indagato sulla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 74 e che si è concluso con la sentenza di Cassazione del 20 giugno del 2017. I documenti relativi a questo processo, però, vanno ben al di là dei fatti di Brescia e ci descrivono un contesto più ampio che ricostruisce un po' tutto il periodo del terrorismo stragista. In quelle carte, infatti, ci sono tracce di collegamenti fra criminalità organizzata, organizzazioni massoniche, organizzazioni neofasciste e strutture dello Stato. Ci sono flussi di denaro e di armi che entrano ed escono dall'Italia, dando sostegno a dei crimini che non sono ancora stati pienamente studiati. Siamo nel periodo che voi tutti conoscerete, chiamato il periodo della strategia della tensione. E cioè quando l'ossessione comunista del mondo occidentale dà vita a una serie preordinata di atti terroristici il cui scopo era diffondere nella popolazione uno stato di tensione e di paura, tali da giustificare o ospicare delle svolte politiche di stampo autoritario. L'ossessione anticomunista degli Stati Uniti ha accompagnato la storia della Repubblica Italiana dalla sua nascita. Il ruolo geograficamente strategico dell'Italia e la presenza del partito comunista più forte d'Europa hanno fatto dell'Italia una sorta di palestra dove gli americani hanno sperimentato per la prima volta le tecniche della guerra non convenzionale. Per guerra non convenzionale intendiamo una guerra non ufficialmente dichiarata, una guerra nascosta, fatta di sostegno clandestino alle forze politiche amiche, fatta di infiltrazione negli organi militari e istituzionali, fatta di organizzazione di strutture segrete, di attentati e di sabotaggi. Gli americani erano preoccupati dall'eventualità che il partito comunista potesse in qualche modo prendere il potere nel paese. Questa eventualità viene contrastata in ogni modo possibile con pesanti ingerenze che caratterizzeranno tutta la storia della Repubblica, almeno fino alla caduta del muro di Berlino. Contemporaneamente infatti all'adesione dell'Italia al patto atlantico nel 1949 è esemplificativo il fatto che quando nasce il SIFAR, il primo servizio segreto militare dell'Italia repubblicana, nasce sotto la stretta sorveglianza della CIA, che impone un diritto di supervisione da parte degli Stati Uniti che limita la reale sovranità del paese. Sempre in funzione anticomunista possiamo vedere la continuità della presenza in molte strutture sensibili dello Stato, le prefetture, le questure, i servizi di informazione, le forze armate, di uomini che avevano iniziato la loro carriera durante il regime fascista. Cioè, alla fine della guerra, alla sconfitta del regime, una sostanziale epurazione non verrà mai fatta. Lo stesso ufficio affari riservati presso il Ministero dell'Interno sarà costituito utilizzando in gran parte gli stessi componenti dell'Ovra, la polizia segreta fascista. L'ossessione anticomunista americana non riguarda però solo la possibilità di un'invasione che proveniva dal blocco sovietico, contro la quale viene predisposta una struttura chiamata stay behind in molti paesi d'Europa. La paura era che il PC potesse andare al potere attraverso libere elezioni. Nel 1951 il Presidente americano Truman firma una direttiva del National Security Council in cui vengono date indicazioni sulle operazioni militari previste per fronteggiare la minaccia comunista in Italia. Questo documento diventa consultabile dal 1985 ma il punto centrale del documento, quello più interessante, rimane segreto perché un omissis copre la parte più interessante, quella che riguarda le misure da prendere in caso di conquista legale del potere da parte del PC. In effetti il consenso popolare al Partito Comunista aumenta notevolmente nel corso degli anni 60. Sono gli anni del boom economico, del tessuto sociale italiano che cambia, quando i contadini diventano operai, gli studenti universitari aumentano e le donne si affacciano al mondo del lavoro. Sono gli anni in cui le lotte per le istanze sociali acquistano una grande importanza. Le lotte operaie per ottenere maggiori diritti diventano particolarmente dure e la possibilità che i governi democristiani possano aprire a sinistra diventano più concrete. Tutto questo preoccupa l'aleato americano, ma non solo lui. Infatti a contrastare l'avanzata delle politiche riformiste non c'è solo l'ossessione americana per il comunismo, ma c'è anche l'interesse di grande parte del mondo imprenditoriale italiano, contrario ad un'apertura a sinistra. Infatti il sistema economico del dopoguerra si basava su una realtà di bassi salari e di bassissima pressione fiscale, che aveva portato grandi vantaggi al mondo imprenditoriale. Vantaggi che gli industriali, in prima fila petrolieri, zuccherieri, costruttori ed armatori, non sono disposti a perdere. Come tutti sappiamo, la conquista legale del potere da parte del Partito Comunista non si realizzerà mai. Il Partito Filoamericano della Democrazia Cristiana rimarrà il partito politico più importante della Repubblica fino al suo scioglimento nel 1994. Per 35 anni consecutivi il capo del governo sarà democristiano. Per 48 anni l'ADC avrà il monopolio del Ministero dell'Interno e spesso saranno democristiani i ministri della difesa, del tesoro e delle finanze. Ma nonostante questo, il decennio che va dal 68 alla fine degli anni 70 sarà il periodo delle grandi conquiste sociali. Nel maggio del 70 abbiamo lo Statuto dei Lavoratori che diventa legge dello Stato. Nel 74 il referendum sul divorzio ne sancisce la definitiva affermazione. Nel 75 abbiamo l'istituzione del nuovo diritto di famiglia. Il 78 sarà l'anno della legge 194 per l'interruzione di gravidanza, l'anno della legge Basaglia e dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi un periodo di grandi conquiste sociali, conquiste che saranno però pagate a caro prezzo. Piazza Fontana, Gioia Tauro, Peteano, La Questura di Milano, Piazza della Loggia, l'Italicus e la Stazione di Bologna. Sono solo alcuni dei nomi degli avvenimenti che hanno macchiato di sangue la storia della Prima Repubblica, avvenimenti per i quali la verità sia processuale che storico-politica è per molti aspetti ancora da scrivere. Grazie. Grazie Giovanna, buonasera a tutti. Cercherò di recuperare un pochettino. Dunque, iniziamo a entrare nel merito del nostro lavoro. Intanto devo dire che il nostro lavoro non sarebbe forse mai stato possibile se otto anni fa la Cassa della Memoria di Brescia non si fosse fasta promotrice di un titanico progetto che ha voluto digitalizzare tutti gli atti relativi alla strage di Piazza della Loggia e non solo. A tutti gli atti processuali appunto di quegli anni. L'obiettivo di Maglio Milani, che era il fondatore della Cassa della Memoria di Brescia e il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage, era quello appunto di dare la possibilità a tutti, giornalisti, studiosi, cittadini, chiunque ne facesse richiesta, di poter accedere a una serie di atti, una mole documentale immensa, senza dover andare intanto a infrangersi magari contro i gangli della burocrazia e poi a immergersi in una marea cartacea di documenti spesso non leggibili, di non facile reperimento. Per fare tutta questa operazione tra l'altro non ci si è dovuti limitare alla scannerizzazione ovviamente della documentazione, ma anche a un vero e proprio lavoro di indicizzazione per poter permettere tutte quelle ricerche tematiche per parole chiave e così via e poter appunto rendere l'intera ricerca molto molto più veloce. L'evoluzione poi in questi anni ha permesso di iniziare un percorso simile anche per i processi di Piazza Fontana e per la strage della stazione di Bologna che appunto hanno proceduto un po' sulla stessa strada. Devo anche fare outing. La prima volta che mi sono trovato, anche la seconda e la terza forse, di fronte a questo gigantesco archivio non ero così convinto di poter arrivare a trovare un bandolo della matassa. Era una marea di 78 gigabyte di materiale documentale, cioè non c'erano neanche file multimediali, leggerissimi pdf ma migliaia e migliaia di file che arrivavano dunque a una mole del genere. C'erano 48 cartelle di tipologie di file diverse, quindi dalle sentenze agli altri atti giurisdizionali, requisitori, ordinanze e così via, verbali di ogni genere, gli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta che sono una tipologia di documentazione molto molto differente dai provvedimenti giudiziari. Il loro obiettivo non a caso è quello di arrivare a una verità storica, extra giudiziale. E tutta una serie di altri reperti per un totale di 700.000 pagine e forse anche una stima per difetto. Il solo semplicissimo pdf che costituiva l'indice già poteva da solo dare una mazzata alle nostre vellità perché si trattava di 2000 pagine in cui semplicemente c'era per ogni contenuto e cartella dove questo era archiviato. Però devo dire che poi un po' la forza del lavoro in gruppo, un po' la pazienza di una giornalista, di una persona straordinaria come Antonella Beccaria, un po' per quanto mi riguarda anche l'aver conosciuto la serena determinazione di Maglio Milani, siamo riusciti a intraprendere questo lavoro e adesso quello che vorremmo fare è un piccolissimo esempio di come abbiamo proceduto. Innanzitutto ognuno di noi ha preso un episodio in qualche modo esemplare per strategie, per tecniche depistatorie e lo ha sviscerato battezzando un paio di documenti da leggere e da conoscere da cima a fondo. Da questi due documenti, nel mio caso, ad esempio l'episodio che avevo deciso di raccontare parlava di una valigia che viaggiava da sola su un treno da Taranto a Milano pochi mesi dopo la strage alla stazione di Bologna e proprio in questa stazione viene intercettata e al suo interno vengono ritrovati un esplosivo molto simile a quello della strage, altre armi e una serie di indizi troppo belli, troppo parlanti per essere veri. Partito da questo episodio, ho iniziato evidenziando tutti i fatti, date, dati, nomi di persone, luoghi, eccetera e partendo da lì, proprio grazie alla presenza di questo gigantesco archivio ho potuto fare tutta una serie di ricerche incrociate sotto due modalità sostanzialmente quella dell'approfondimento, quindi la ricerca incrociata andando ad approfondire e avvaliare questi fatti che erano presenti nei primi due documenti e poi la verifica dei dati, sia in ottica di coerenza interna dei fatti ma anche poi per vedere, visto che la documentazione scelta non erano sentenze di Cassazione che appunto sono spesso scritte in legalese, sono tecnicistiche quindi non si dilungano negli episodi come magari una requisitoria che però è all'inizio dell'iter processuale quindi andava anche vagliata poi la coerenza con la verità giudiziaria a cui si era arrivati magari 30 anni dopo rispetto alla requisitoria da cui ero partito io. Vi faccio proprio l'esempio pratico A un certo punto, spero questo mi sia consentito, leggo proprio un brevissimo no, non è neanche una parte del libro quindi siamo a posto leggo di questo episodio il 9 gennaio dell'81 nella saletta VIP dell'aeroporto di Ciampino il generale Notar Nicola, che è un funzionario del Sismi quindi i servizi segreti militari dell'epoca riceve dal generale Santovito, che era capo del Sismi importanti disposizioni le informazioni che vengono consegnate fanno alla fine rinvenire una valigia con esplosivo armi oggetti, quello che vi dicevo riconducibili a due sospetti terroristi tra gli oggetti rinvenuti c'era un biglietto per il volo Milano-Monaco del 13 gennaio 1980 questo episodio io l'ho trovato nella requisitoria nella prima requisitoria del processo di primo grado per la strage della stazione bene cosa ho fatto? vi dicevo dei due filoni di indagine quello della ricerca incrociata per approfondire e quello della verifica dei dati per quanto riguarda la ricerca incrociata il mio spero si legga forse non benissimo comunque diciamo nella parte sinistra c'è il documento di partenza quello da cui sono partito in cui ho evidenziato i nomi i protagonisti di questo episodio e sono andato a ricercarli non solo appunto all'interno del mio documento base ma all'interno di tutto l'archivio del Brescia Terre chiaramente sono uscite un'infinità di situazioni però una volta vagliate quelle utilizzabili per l'episodio che interessava a me raccontare sono venuti fuori tutta una lunga serie di riferimenti ad esempio quello che sulla destra adesso è evidenziato in rosso a dei rapporti dei carabinieri ad altri nomi tra cui alcuni non banali come quello di Liciogelli che insomma nella mia ipotesi potevano farmi ricostruire tutto il rapporto le relazioni tra gli uomini del sismi e la P2 e quindi Liciogelli grazie a qui nel documento c'era solo un brevissimo riferimento a un tale rapporto dei carabinieri di Savona però io grazie proprio a questo strumento che abbiamo potuto utilizzare questo gigantesco archivio sono riuscito a risalirvi e attraverso anche un paio di altri step che sarebbe un po' lungo raccontare a ricostruire proprio anche se vogliamo l'inizio e il sistema di relazioni tra la P2 appunto e il sismi questo magari poi nel libro non è detto che andava scritto infatti non è stato scritto però mi dava tutta un'idea di quello che c'era intorno all'episodio che volevo raccontare e che mi ha magari forse permesso di descriverlo in una certa maniera faccio un altro esempio simile però diciamo la modalità è questa quindi forse possiamo anche saltare oltre l'altra modalità di indagine di cui parlavo era quella invece della verifica dei dati bene in questo caso io mentre diciamo questo episodio qui tra l'altro aveva una peculiarità era uno dei pochissimi su cui non si è mai litigato in aula cioè sia accusatori che accusati accettavano il fatto che fosse avvenuto quindi ero anche sollevato bello aveva gli elementi giusti per costituire l'inizio della mia narrazione decido di prenderlo e sembra non ci siano problemi a fare un bel copia e incolla però proprio tra il control c e il control v praticamente mi è iniziato a sorge un piccolo dubbio si parlava dell'aeroporto di Ciampino io va bene nell'81 non ero ancora nato però non lo so immagino gli uomini del sismi magari volare su voli privati o comunque voli di un certo livello e io nella mia ignoranza associavo Ciampino magari ai voli low cost come oggi e quindi mi è venuto un piccolo dubbio lì poi un altro piccolo dubbio è questo 13 gennaio 1980 è esattamente un anno prima rispetto alla data in cui la valigia viene ritrovata 13 gennaio 81 sospetto quindi tanto che sia un refuso però nel mio documento c'è scritto questo e quindi in tutti i documenti anche successivi che riprendono questa data qui non è banale parlare come indizio nello sviluppo di una storia di qualcosa che succede un anno prima e quindi prima anche della strage alla stazione di Bologna o qualcosa che succede dopo nell'andare quindi grazie alle possibilità offerteci dall'archivio del Brescia Terre a incrociare e a verificare in tutti gli altri documenti alla ricerca della verità su questi miei piccoli dubbi sono arrivato anche a un terzo dubbio perché se nella prima requisitoria si parlava di un appunto dato da Santo Vito a Notar Nicola poi invece in sei documenti diversi si parla una volta di Musumeci che consegna l'appunto a Notar Nicola una volta addirittura le informazioni che vengono date dal generale Santo Vito a Musumeci quindi Notar Nicola non c'è per niente insomma ci sono sei ricostruzioni diverse sei ricostruzioni diverse io ovviamente non sapevo che pesci pigliare in questo caso mi pare di ricordare me la sono cavata un po' pilatescamente dicendo che Notar Nicola che sicuramente le riceveva le riceve alla presenza di tutti gli altri però ci sono situazioni in cui non si può fare così sul discorso dell'aeroporto non potevo certo non nominare il luogo dove volevo ambientare il mio primo episodio quindi vado a fare la ricerca dentro l'archivio e qui mi si apre una voragine sotto i piedi perché Ciampino e Fiumicino vengono citati nel raccontare lo stesso episodio in tutte le sentenze dell'iter giudiziario praticamente alla pari ci sono addirittura sentenze che parlano nella stessa sentenza si parla due volte di questo episodio una volta però viene ambientato a Ciampino e una volta a Fiumicino quindi io adesso qui ho già sforato anche io il mio tempo quindi mi scuso con voi ma anche con i miei colleghi raccontarvi come ne sono venuto fuori sarebbe un po' lungo io tra l'altro avrei anche voluto chiedere a voi magari cosa avreste fatto così la prossima volta avrei fatto anche prima magari se non ci sono domande alla fine mi permetto io di fare questa a voi va bene, niente, quindi concludo solamente dicendo che come si è visto da questi esempi diciamo l'errore è sempre dietro l'angolo l'errore di chi ha trascritto all'epoca gli atti l'errore di chi si mette a studiarli oggi quindi la componente umana e quindi l'esperienza, il fiuto sono sempre preponderanti ovviamente però allo stesso tempo un'operazione del genere con delle ricerche incrociate del genere senza un archivio digitalizzato in questa maniera bisogna mettere non sarebbero mai state possibili ecco bene, ho finito prego Luna Buonasera Buonasera, io invece vi parlo di come in realtà ci sia un'alternativa all'uso degli archivi delle associazioni dei familiari delle vittime che è un'alternativa che però vedremo più macchinosa e ad oggi che funziona e non funziona ovvero a partire dal 2014 l'allora presidente del consiglio Renzi ha emesso questa direttiva che stabiliva due cose fondamentali una la declassificazione di tutta una serie di documenti conservati dalle pubbliche amministrazioni ministeri, organismi di intelligence e anche organismi militari e l'altra il loro versamento agli archivi di Stato all'archivio centrale dello Stato e in particolare la sua direttiva riguardava Piazza Fontana Gioia Tauro, Peteano la Questura di Milano Piazza della Loggia l'Italicus Ustica la stazione di Bologna il rapido 104 e questo era già stato fatto nel 2007 dall'allora presidente del consiglio Prodi per quanto riguardava invece gli atti relativi alle vicende dell'omicidio Moro e dunque questo da un lato è una cosa molto importante perché sancisce che prima dei tempi normalmente previsti dalla legge che allora erano 40 anni venissero versati questi documenti appunto ad un archivio centrale dello Stato che è un archivio pubblico e consultabile da tutti i cittadini quindi che fossero messi a disposizione della cittadinanza sia per ricerca storica che per fini giornalistici vedremo che non è che sia andata proprio così bene finora allora qui ho fatto un rapido elenco di chi ha versato comunque più o meno sono i soggetti che ho detto prima vado un po' veloce che allora e dunque la questione prima che si è posta però è quella della frubbilità ovvero versare i documenti non coincide necessariamente con il renderli consultabili in toto perché ci sono dei problemi di privacy ci sono dei problemi di dati sensibilissimi i cosiddetti dati sensibilissimi e il codice del patrimonio culturale stabilisce che ci sono delle tempistiche relative ai dati che variano tra i 40 e i 70 anni per la loro pubblicazione totale ciò detto la direttiva Renzi chiedeva appunto di rendere pubblici questi atti quindi si è deciso di renderli fruibili utilizzando un paio di scelte la prima era fare delle obliterazioni ovvero dove ci sono dei dati che ancora non hanno diciamo l'età per essere consultabili da tutti sono stati sulla copia digitale a Nerieti e in alternativa dove la mole di documenti era tale che il personale archivistico non era diciamo attrezzato per poter fare queste obliterazioni questa grossa operazione di obliterazioni l'alternativa è che chi volesse consultare questi dati faccia una richiesta per fini storici presentando un progetto di ricerca storico a questa commissione che però ahinoi è incardinata dentro il ministero dell'interno poi mi dicono che il ministero dell'interno nel giro di due o tre mesi l'autorizzazione la conceda è comunque originale il fatto che benché ormai questi siano documenti considerati patrimonio culturale sia il ministero dell'interno che stabilisce se si possono vedere oppure no poi non dico altro comunque l'autorità giudiziaria e le commissioni parlamentari hanno libero accesso senza vincoli e in realtà questo succedeva anche prima perché poi si tratta di una declassificazione che non ha nulla a che fare col segreto di stato ma erano atti con questa classificazione di segretezza che è un atto amministrativo mentre gli atti coperti da segreto di stato che è un atto politico non sono ammessi a consultazione neanche dall'autorità giudiziaria però è proprio un'altra cosa anche perché in teoria per legge non si può apporre il segreto di stato su documenti legati allo stragismo per cui allora a distanza di 5 anni sono emersi una serie di nodi critici cioè insomma l'iniziativa è lodevole ma non sta davvero funzionando come si aspettavano e speravano la società civile in primis soprattutto le associazioni dei familiari delle vittime questo per una serie di motivi allora innanzitutto alcuni organismi alcuni enti hanno versato oggettivamente troppo poco torno scusate sulla slide di prima dell'esempio che ci fa vedere che il ministero dei trasporti ha versato soltanto 4 faldoni relativi esclusivamente questo è l'unico versamento che hanno fatto quindi non hanno versato niente sulla stazione di Bologna non hanno versato niente sulle stragi sui treni hanno versato 4 faldoni su Ustica e insomma molto poco ci immaginiamo che in realtà ci siano dei documenti che per qualche motivo ancora non sono stati versati anche perché la direttiva non obbliga le strutture dello Stato a fornire un elenco dei documenti in suo possesso prima di versarli sono gli stessi ministeri gli stessi organismi di intelligence che vagliano i documenti che hanno e in teoria prelevano quelli relativi a questi eventi e poi li versano poi appunto dove vedi che il ministero dei trasporti ha versato solo 4 faldoni in tutto qualche dubbio un po' viene comunque altri invece hanno fatto dei versamenti sovradimensionati ovvero hanno versato chilometri chilometri di carta del tutto inutile rassegna stampa insomma cose che non aggiungono assolutamente niente e non portano nessun nuovo elemento quindi insomma neanche nessuna lettura insomma proprio carta che sembra quasi che abbiano approfittato per fare ripulisti nei loro di archivi e fare spazio ecco e appunto le amministrazioni non forniscono un elenco dei documenti la direttiva è riferita a degli eventi specifici per cui quando le associazioni delle vittime hanno chiesto in particolare agli servizi di intelligence di versare dei documenti relativi ai file personali delle persone coinvolte nell'epoca stragista la risposta è stata ah ma non siamo tenuti perché la direttiva parla degli eventi e non delle persone insomma anche qui si è trovato il cavillo in più mancano delle linee guida tecniche per gli archivisti per cui a seconda dell'archivista con cui parli ti trovi in situazioni paradossali da quello che ti dice ah no non ti posso far vedere niente a quello che ti dice ah però ci voglio un sei mesi perché devo fare tutte le obliterazioni insomma anche questo di fatto è un limite alla consultabilità di questi documenti e anche gli archivi di stato periferici sono in una situazione un po' di stallo ovvero intanto tanti documenti non li hanno ricevuti ad esempio le prefetture hanno versato pochissimo invece ci si immagina che abbiano degli archivi molto interessanti e dall'altro lato se guardate ad oggi cioè io l'ho guardato due giorni fa i siti degli archivi di stato periferici in luoghi dove sono successe anche cose molto importanti se guardate nella pagina sul patrimonio conservato non è ancora inventariato niente per cui come faccio io giornalista io ricercatore a voler venire a leggere un documento che non so neanche che tu possiedi non posso per cui questo è quanto direi che più o meno ho detto tutto passo la parola a Flavio vieni facciamo un cambio posso vai tu non cambiare è uguale aspo cambia anche il nome no ma è uguale ti tengo il tempo grazie a tutti buonasera a proposito di fruibilità e di trasparenza rispetto alle notizie e alle informazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni va fatta secondo me un breve brevissimo anche perché mi stanno facendo fretta un breve accenno alla legge cosiddetta FOIA Freedom of Information Act è una legge introdotta nel 2016 che fa parte della riforma della pubblica amministrazione e che in questa legge si tratta di un accesso civico generalizzato che garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni in pratica con la normativa FOIA l'ordinamento italiano riconosce il diritto fondamentale come diritto fondamentale la libertà di accesso alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni chi può usufruire di questa legge per avere delle informazioni dalle pubbliche amministrazioni possono accedere tutti quanti possono accedere giornalisti storici insegnanti possono accedere le associazioni associazioni come dire che hanno un interesse preciso rispetto a determinate informazioni ma anche associazioni che non hanno un interesse preciso possono accedere singoli cittadini chiunque può chiedere alla pubblica amministrazione di avere dei dati in possesso di questo comune o di questa regione di questo assessorato può chiedere di avere questi dati e può farlo come dire senza dover giustificare niente senza dover dire il motivo per cui lo chiede e una volta fatta la domanda attenzione una volta fatta la domanda questa istituzione questa pubblica amministrazione qualunque essa sia ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni entro 30 giorni dalla domanda fatta dal cittadino proprio come obbligo di legge come come dire se funziona o non funziona questa legge io come dire nella mia precedente vita io ho fatto il presidente nazionale di Alcigheia fino al novembre scorso e a un certo punto ho partecipato a un test di funzionamento di questa legge foia vorrei raccontarvi cosa è successo ma preferisco parlare in realtà per questione di tempo di ciò che ho fatto su questo libro allora nel libro io parlo e veniamo appunto al libro parlo di un preciso episodio di depistaggio o presunto depistaggio attenzione perché ancora non siamo riusciti a capire se si tratta di depistaggio o no e riguarda appunto la strage di piazza della loggia a Brescia cosa succede? succede lo sappiamo tutti esplode una bomba alle 10.10 del mattino del 28 maggio 1974 esplode questa bomba purtroppo ci sono otto morti e 102 feriti alle 10.10 esplode la bomba alle 11.45 il vicequestore Agnello di Amare che era il responsabile dell'ordine pubblico in piazza della loggia per quella manifestazione ordina ai vigili del fuoco di lavare la piazza e di tirare via qualsiasi tipo di resto che si trova in quella piazza dopo la bomba dalle testimonianze che appunto sono emerse nei vari processi dopo la bomba nella piazza c'era un vero e proprio macello c'erano c'erano brandelli di vestiti calcinacci pezzi di ferro ovunque c'erano purtroppo dei corpi devastati c'era molto sangue c'era c'era un come dire un discreto un discreto appunto macello e l'azione di Agnello di Amare a tutte le persone che erano rimaste nella piazza per la manifestazione sembrò in un primo momento un tentativo anche di umana pietà lavare via il sangue lavare via i resti umani dalla piazza sembrava un qualcosa che si doveva fare proprio per anche rispetto a chi era stato vittima di quella di quella strage e il problema e il problema è che Agnello di Amare fece questo lavaggio ordinò questo lavaggio senza aspettare l'intervento del magistrato e senza aspettare l'intervento degli esperti della scientifica degli esperti che potevano in qualche modo raccogliere tutti i vari possibili referti raccogliere tutte le possibili prove e prove che dovrebbero in qualsiasi processo in qualsiasi strage sono fondamentali per risalire ad esempio al tipo di esplosivo usato o al tipo di innesco usato e una volta che sai il tipo di esplosivo o il tipo di innesco riesci anche a risalire da dove proviene questo esplosivo oppure chi ha comprato l'innesco insomma si possono fare varie indagini Agnello di Amare ordina i visiti del fuoco ai pompieri di lavare la piazza con i potenti getti lavare via tutto quanto spazzolare per bene attenzione la piazza e tutti tutti i vari tutti i possibili reperti vengono in questo modo perduti ora quello che ci si è chiesto allora ma in realtà ci si chiede ancora adesso questo episodio di Agnello di Amare in realtà è conosciutissimo però un po' caduto nel dimenticatoio la domanda è è mai possibile che una persona di grande esperienza come il vicequestore Agnello di Amare abbia fatto abbia potuto fare un errore così grossolano e quindi si è trattato di un atto di un errore di un atto di sciatteria se vogliamo oppure si è trattato di qualcos'altro e lì ho provato ho cominciato a indagare nelle varie all'interno delle scusate all'interno dell'immenso dell'immenso archivio del del Brescia Terre all'interno dell'archivio di Brescia Terre ad un certo punto mi sono imbattuto in un interrogatorio informazioni testimoniali date da uno scrittore un giornalista scrittore credo Paolo Cucchiarelli che ha scritto un libro su Piazza Fontana racconta Paolo Cucchiarelli racconta tantissime cose interessanti molto molto interessanti su varie questioni che riguardano il terrorismo in Italia però a un certo punto parlando di una di una testimonianza di Vincenzo Vinciguerra Vincenzo Vinciguerra all'ergastolano che è l'ergastolo appunto per la strage di Petrano dice questa cosa dice per giunta sono entrato in contatto con l'onorevole Corsini il quale così come ha avuto occasione di ribadire in un intervento pubblico a Brescia del quale consegno la relativa notizia ANSA da me redatta sostiene di aver appreso dal defunto ministro Taviani che Agnello Di Amare il vicequestore Agnello Di Amare era un componente del servizio segreto clandestino altrimenti indicato come noto servizio so che l'onorevole ha tentato di avere copia dell'audizione segreta di alcuni passaggi del Taviani e che il senato ha negato l'autorizzazione ora c'è questa testimonianza che io dico è una notizia incredibile e questa notizia va assolutamente approfondita vado a cercare all'interno dell'immenso archivio e bellissimo archivio di Piazza della Loggia la relativa ANSA e la relativa ANSA come dire conferma tutto questo conferma che l'onorevole e il sindaco di Brescia anche Corsini a un certo punto ha parlato di questa di questa deposizione dell'allora ministro degli interni Paolo Emilio Taviani in commissione stragi in cui ha parlato del vicequestore di amare come appartenente al noto servizio il noto servizio detto anche anello era come dire un servizio parallelo nel già parallelo mondo dei servizi segreti deviati è una come dire un altro servizio segreto indagato molto bene da Stefania Limiti e da Aldo Giannuli che appunto fa delle ricostruzioni abbastanza inquietanti su un bel periodo della nostra storia soprattutto appunto nel periodo delle stragi chiamo l'onorevole Corsini telefono l'onorevole Corsini e gli dico ma davvero cosa è successo cosa non è successo che cosa dice che cosa ha detto Paolo Emilio Taviani e lui mi conferma tutto quanto e mi conferma anche che il Senato ha negato a lui l'accesso alla parte secretata della seduta ok e questa cosa è incredibile perché l'onorevole l'onorevole Corsini faceva parte della commissione parlamentare di vigilanza ora io sono andato a cercare la seduta e la seduta è online la seduta è del 1 luglio del 97 a inizio alle 10.10 ha varie come dire varie pause però a un certo punto c'è una pausa lunghissima che è stata che è stata secretata ed è alla fine della alla fine della seduta praticamente qua ci sono gli esempi degli omissi ogni volta che c'è la parte della seduta viene secretata viene scritto alla fine il come dire c'è questa nota del verbalizzatore i lavori proseguirono in seduta segreta dalle 11.34 i lavori ripresero in seduta pubblica alle 13.44 due ore praticamente due ore e dieci minuti in seduta segreta cosa aveva mai detto l'onorevole Taviani in due ore di seduta segreta su tre ore complessive di seduta della commissione stragi e questo è quello che ho cercato di scoprire il senato non dava all'onorevole Corsini la visione della parte secretata però sempre guardando nel meraviglioso archivio del Brescia a terra a un certo punto mi sono ritrovato tutte le pagine della parte secretata della seduta della commissione stragi in cui Taviani parla anche del nostro vicequestore e questa parte secretata ha una particolarità ha tre numerazioni diverse vedete in alto a destra una numerazione a pennarello la numerazione standard dei verbalizzatori del senato e un'altra numerazione più in basso sempre a destra fatta a penna incrociando questa numerazione a un certo punto ci sono tutta una serie di pagine che mancano ci sono tutta una serie di pagine doppie e ci sono tutta una serie di intrighi di contrasti su cui non si riesce a venire fuori dice cose molto molto interessanti l'ex ministro dell'interno Taviani su Agnello di Amare e su tutta la parte delle stragi negli anni 70 però anche lì non si riesce a capire non si riesce a venire fuori al grande dubbio finisco solo dicendo che ai tempi Agnello di Amare fu subito per questo errore chiamiamolo così errore fu trasferito fu trasferito da Brescia e trasferito a Pordenone però un mese dopo essere stato trasferito a Pordenone da vicequestore divenne questore questo è come dire la cosa buffa che è successa che mi è successa cercando nel grande archivio del Brescia Terra e come dire io voglio continuare a indagare perché voglio continuare a cercare le pagine che mancano e cercare di capire se proprio in quelle pagine che mancano magari ci sono delle ulteriori informazioni grazie buonasera io faccio velocissimo promesso allora gli ultimi due interventi sono parleranno di colore e calore delle storie io vi parlerò degli archivi multimediali e Luca delle emeroteche degli archivi dei quotidiani dunque un altro documento un altro documento importante che noi abbiamo utilizzato nel lavoro di ricerca che ha portato a Depistaggi sono stati sicuramente i documenti multimediali e di conseguenza gli archivi che li custodiscono perché Depistaggi nasce come un lavoro ibrido è fondato su un metodo giornalistico di indagine attenta degli atti giudiziari ma in realtà l'output è sempre stato nel nostro pensiero e così poi è stato nel risultato esclusivamente narrativo cioè noi raccontiamo fatti storici realmente accaduti senza però la velleità di ricostruzione storica noi volevamo raccontare delle storie che è quello che sappiamo fare spero e quindi avevamo bisogno di riscaldare in qualche modo quello che erano i materiali freddi appunto presi dai documenti giudiziari che sono ontologicamente privi di qualsiasi tipo di informazione che non sia funzionale una ricostruzione processuale della verità quindi abbiamo utilizzato gli archivi multimediali che sono importantissimi sia che si vogliano raccontare storie di realtà sia per ricostruire fatti realmente accaduti in storie di finzione siccome devo stringere moltissimo vorrei farvi vedere questo dunque questa è una delle prime foto che sono uscite dalla banca dell'agricoltura il giorno dell'attentato del 12 dicembre e quella sotto invece è la ricostruzione del set di Marco Tullio Giordana in Romanzo di una strage che è un film che si basa su una teoria particolare e discutibile però a livello di ricostruzione storica visiva degli elementi è stato un lavoro grandioso perché è importante vedere i protagonisti delle storie all'interno del loro contesto perché ci permette un po' per raccontarne le vicende di avere un set mentale in qualche modo di avere uno scenario in cui farli muovere e farli fare quello che sappiamo già che hanno fatto ma permette anche di raccontare storie che siano il più possibile rispondenti alla realtà perché gli archivi multimediali danno sostanzialmente due ordini di grandezza di dati ci danno informazioni macro e quindi riusciamo a ricostruire soprattutto per fatti a cui non abbiamo assistito cioè si raccontano fatti storici o fatti avvenuti semplicemente da un'altra parte quindi informazioni macro da un lato che ci permettono di comprendere il mondo intorno ai protagonisti delle nostre storie ma anche il modo in cui il mondo agisce sui protagonisti delle storie e sul contesto sociale che hanno intorno perché nessun uomo è un'isola lo sappiamo tutti e tutto quello che è successo dopo Piazza Fontana è successo perché vivevamo un periodo storico particolare e c'erano delle dinamiche appunto anche a livello anche soltanto a livello sociale che sono quelle poi che hanno portato appunto a questo e questa è una parziale e non esauriente reazione del paese a Piazza Fontana e tutto questo ha sicuramente permesso a noi di mettere a fuoco una vicenda che ci allontana per ragioni innanzitutto anagrafiche e abbiamo un manifesto di Guido Crepax di Soccorso Rosso abbiamo una colonnina di costume di un giornale in cui si racconta che Valprede è stato praticamente bannato dalla RAI perché aveva una piccolissima parte in uno sceneggiato e fu eliminato perché ovviamente il ballerino di Namitardo non poteva trovare spazio nel servizio pubblico abbiamo un'assemblea in università in cui si ragiona sui fermi di polizia per cui sulle questioni cautelari legate a Piazza Fontana e in ultimo la Piazza del Duomo il giorno dei funerali che probabilmente è stato il contrapunto morale a tutto quello che è successo dopo e per quanto abbiamo scritto delle storie per cui non abbiamo avuto la possibilità di far vedere niente per noi è stato molto importante acquisire informazioni da questo punto di vista perché è quello che ci ha permesso di raccontare una storia il più possibile vicina a quello che è successo in realtà all'epoca io lascerei la parola a Luca e poi ci siamo grazie grazie buonasera io non farò altro che integrare quello che ha detto Amalia fino a questo momento perché appunto estendendo il discorso agli archivi dei quotidiani perché fondamentalmente gli archivi dei quotidiani forniscono tutto quel calore che gli atti giudiziari non possono assolutamente restituire per noi era fondamentale perché nel lavoro di narrativa che abbiamo fatto il calore fornisce quell'elemento in più che che consente al lettore di procedere e andare avanti nella lettura questi sono alcuni esempi il calore il calore in questo senso in questo episodio diventa il colore ovvero il colore della della 500 che viene fatta esplodere a Peteano è un elemento che nella sentenza nessuno troverà mai il colore della 500 però sono tutte quelle notizie e quella parte di nozioni che invece aiutano un lettore a entrare in empatia anche con le vicende e allo stesso modo ci sono delle informazioni contenute nei testi dei quotidiani dei giornali quindi scritte da persone che erano lì presenti che hanno visto con i loro occhi come questo che racconta di dove si trovava esattamente il veicolo tra qui leggo brevemente la macchina si trovava dopo tre curve una a pochi metri dall'altra un po' distante dalla banchina questi sono tutti elementi che appunto in una sentenza un giudice non trascriverebbe mai mentre invece il cronista racconta per calare il lettore dentro questa vicenda queste sono per noi hanno gli archivi dei quotidiani hanno avuto appunto hanno rivestito questa importanza e diciamo che se da un lato abbiamo avuto a disposizione una mole enorme come quella dell'archivio giuridico del Brescia Terra dall'altro invece ci siamo trovati con una difficoltà nel reperire le informazioni appunto giornalistiche sui fatti su fatti che risalgono a 40 e passa anni fa questo perché appunto gli archivi dei giornali non sono stati tutti digitalizzati molti sono contenuti nelle emeroteche quindi abbiamo dovuto fare diverse sedute in emeroteca a sfogliare giornali e questo chiaramente oltre a rallentare il lavoro lo rende anche piuttosto complicato cosa che invece un archivio digitale consente di fare ci sono archivi digitali privati come quelli dei grandi quotidiani la stampa ad esempio o l'unità vedremo più avanti ma ci sono anche archivi che sono stati messi a disposizione dai privati come quello di Henry De Luca che ha messo a disposizione quello di lotta continua la sua collezione personale però appunto ci siamo ci troviamo di fronte a una questione che rimane al momento forse la la problematica più grande digitalizzare è sufficiente la risposta che possiamo dare è no non è sufficiente la sola ed esclusiva digitalizzazione perché come appunto come si vede con questi casi dell'unità e di Radio Radicale quello che è realmente importante è l'accessibilità il fatto che si che sia data la possibilità a chiunque di accedere a questi archivi il caso dell'unità sapete benissimo forse meglio di noi che l'archivio c'è è presente ma non è più accessibile se non attraverso forme diciamo non del tutto legali quello di Radio Radicale invece sta rischiando di perdere la sua accessibilità appunto per una questione di fondi qui noi ci fermiamo perché non possiamo andare oltre queste considerazioni ma speriamo che appunto voi possiate in futuro riuscire a rispondere a questa domanda che per noi che facciamo tutto un altro lavoro invece è molto importante grazie 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 ai nostri autori che ci hanno raccontato questo modo particolare insomma e che però appartiene evidentemente molto da vicino al giornalismo e che poi mette insieme altro tipo di esperienze e altro tipo di conoscenze e che ha prodotto questo libro che si chiama appunto Depistaggi e di cui loro sono autori vado un po' di furia perché purtroppo il tempo è tiranno alle 18.30 dobbiamo chiudere quindi grazie davvero grazie 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 che rimane al momento forse la problematica più grande. Digitalizzare è sufficiente? La risposta che possiamo dare è no, non è sufficiente la sola ed esclusiva digitalizzazione perché come si vede con questi casi dell'Unità e di Radio Radicale, quello che è realmente importante è l'accessibilità e il fatto che sia data la possibilità a chiunque di accedere a questi archivi. Il caso dell'Unità, sapete benissimo, forse meglio di noi, che l'archivio c'è, è presente, ma non è più accessibile se non attraverso forme non del tutto legali. Quello di Radio Radicale invece sta rischiando di perdere la sua accessibilità appunto per una questione di fondi. Qui noi ci fermiamo perché non possiamo andare oltre queste considerazioni ma speriamo che appunto voi possiate in futuro riuscire a rispondere a questa domanda che per noi, che facciamo tutto un altro lavoro, invece è molto importante. Grazie. Grazie. Grazie ai nostri autori che ci hanno raccontato questo modo particolare insomma e che però appartiene evidentemente molto da vicino al giornalismo e che poi mette insieme altro tipo di esperienze, altro tipo di conoscenze e che ha prodotto questo libro che si chiama appunto Depistaggi e di cui loro sono autori. Vado un po' di furia perché purtroppo il tempo è tiranno e alle 18.30 dobbiamo chiudere. Quindi grazie davvero. Andiamo avanti con l'ultimo...